Ha preso il via dinanzi alla Corte d'Assisi di Lecce il processo a Michele Aportone, il 71enne di Sandonaci, accusato di aver assassinato con un fucile da caccia Silvano Nestola, ex carabiniale di 45 anni, la sera del 3 maggio 2021, mentre lasciava casa della sorella col figlio di 11 anni. Nel momento qual è lo stato emotivo della vedova? Scossa soprattutto perché l'omicidio è avvenuto sotto gli occhi del figlio. La ex moglie parte in causa sia per la tutela dei propri diritti e dei propri interessi ma soprattutto per quella dei figli. Durante l'udienza è stato nominato il dottor Tortorella, medico legale incaricato a controllare lo stato di salute dell'imputato anche in seguito alla presentazione dell'istanza di leggerimento della misura cautelare presentata dall'avvocato Francesca Conte. Abbiamo a che fare con un imputato di 71 anni che non sta bene da tempo. Quale sarà la strategia difensiva? La Portone ha sempre negato qualsiasi tipo di responsabilità. Non si è sentito di essere interrogato perché si sente persona assolutamente innocente, non ha grandi scuole, quindi non ha anche emotivamente la capacità di esprimersi in maniera adeguata. E quindi la strategia sarà quella di dimostrare le stranità a questo gravissimo fatto di sangue. Il 24 ottobre il medico legale verificherà lo stato di salute del detenuto presso la casa circondariale di Bari e dentro 30 giorni dovrà depositare la perizia dettagliata. L'avvocato Conte inoltre, oltre ad aver chiesto una verifica delle gravi condizioni di salute dell'imputato, ha chiesto di valutare anche la compatibilità con il regime carcerario e incompatibilità di stare in giudizio. L'attuale stato detentivo sta anche peggiorando la situazione fisica e morale? Assolutamente sì, tanto che abbiamo il sospetto che non sia capace di poter partecipare validamente al processo, lo abbiamo rappresentato oggi alla Corte, per valutare la capacità di stare in giudizio.